Puglia Connection La Puglia che suona Puglia Connection Puglia Connection Puglia Connection Puglia Connection Puglia Connection Grazie a tutti. 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 Siamo tornati in diretta alla nuova puntata di Puglia Connection dopo la No Stop di sabato scorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parlando di Trulletto Records e vi faccio ascoltare una sua produzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.